Siamo a Lago del Turano, Colle di Tora, località Il Colle. Questo casale che vi sto proponendo in questo momento è un casale in corso di ristrutturazione di circa 100 metri quadri, al quale tra l'altro possiamo abbinare quella adiacente, perché è un casale unico ma sono due proprietà, per un totale sono 200 metri quadri. Sono comunque due vendite separate, quella che vi sto ancora in questo momento è una vendita e il casale in questo momento è totalmente da ristrutturare, cioè stiamo rifacendo, dobbiamo rifare sia il tetto, i solai e la faccia vista. Noi nella proposta che vi facciamo, vi diamo il casale ristrutturato con i solai, il tetto e la pietra faccia vista, all'interno lo lasciamo al gusto di chi eventualmente lo comprerà. Come potete vedere il casale è disposto su due piani, ha su questo lato questa parte che è solo il piano terra e sopra ci sarà una terrazza, vedrete meglio nel rendering che io vi ho messo in un altro video che troverete sempre qui allegato o nelle foto, noterete come questo che vi sto mostrando su questo lato è una bella terrazza con la vista sia sul lago del Turano, quindi la vista più aperta sulla valle, sia internamente sulla parte interna della collina. come vi dicevo, il casale è da ristrutturare però se voi avete la capacità di vederlo finito o quantomeno riuscite a inquadrarlo bene, quelle che sono le slide fotografiche allegate e potete vedere come verrà finito. Questa è la vista e la posizione del casale, cioè noi in questo momento siamo esattamente sul terreno di proprietà del casale e questo è ciò che abbiamo sui nostri occhi, una veduta molto bella come poche ne possiamo vedere o ne possiamo avere qui sul lago del Turano e non solo. Allora vi dicevo questo casale che in corso di ristrutturazione è composto, il piano terra da circa 60 metri al primo piano da circa 30 metri per quanto riguarda la parte alta, finita a manzarda col tetto in legno, a manzarda però non basta, a manzarda alta più questa splendida terrazza, completa la proprietà circa 1.500 metri quadri di terreno, così come lo vedete, ecco vediamo anche il nostro bel cavallino che ci curiosa e ci controlla. Bene, questa è una di quelle offerte, ritengo che non ci dobbiamo far scappare per chi è amante della natura, della quiete e del bello che ha il gusto del bello, in quanto non è usuale vedere e avere negli occhi dal nostro casale una vista come questa. Io vi saluto e vi invito eventualmente a guardare anche altre nostre offerte sul sito. Grazie, arrivederci. Grazie.